Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture, ovvero i libri di fumetti che ho letto nell'ultimo periodo. Direi di partire subito con Pensiero Madre, un libro che ho richiesto io a neoedizioni perché mi incuriosiva tantissimo. Si tratta di una raccolta di racconti, all'interno di questo libricino ce ne sono ben 17 scritti da 17 scrittrici diverse e hanno come filo conduttore appunto il pensiero che precede la maternità. Questo libro ha un prezzo di copertina di 15 euro e come vi dicevo l'ho richiesto io perché ho 25 anni e guardandomi attorno ci sono diverse mie coetane che sono già madri. Mia madre alla mia età era già madre di me appunto, io invece non riesco ad immaginarmi madre ma soprattutto mi spaventa tantissimo. È una cosa che per certi versi mi incuriosisce e in futuro magari mi piacerebbe diventare madre ma in questo momento preciso della mia vita mi spaventa tantissimo. E quindi ero curiosa di leggere qualcosa su questo argomento e per fortuna ho trovato conforto leggendo questa raccolta di racconti. Ci sono appunto 17 racconti, quindi 17 punti di vista differenti sul pensiero della maternità, di come ci si arriva, se c'è un momento in cui scatta l'orologio biologico, in cui si desidera fortemente diventare madri, qual è il momento giusto o sbagliato, come viene vissuto, in che contesti, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti all'interno di questa raccolta. Sono dei racconti intimi che vanno a sviscerare questo pensiero, lo analizzano da diversi punti di vista e la cosa che mi è piaciuta è che non si parla esclusivamente della voglia di diventare madre, del fatto che prima o poi capita a tutte di voler diventare madri, no, assolutamente. La maggior parte delle protagoniste sono donne comunque in carriera, con una certa età, non hanno mai sentito il bisogno di procreare, di avere figli, ma comunque si sentono donne, si sentono realizzate nella loro vita. Ed è una cosa che un po' appunto mi ha tranquillizzata e mi ha dato conferma che non è necessario essere madri per essere veramente una donna. E questo aspetto mi ha fatto riflettere veramente tanto e mi ha fatto apprezzare ancora di più questo sentimento contrastante che è in me, ovvero il voler diventare madre ma un giorno abbastanza lontano. Non adesso perché ho ancora tante cose da sperimentare e da vivere e per farle vado bene così come sono, non ho bisogno di altro. Se è un argomento che interessa anche voi vi consiglio la lettura di questo libro proprio perché sono 17 racconti quindi c'è tanta varietà, si parla di tante cose diverse, quindi è facile rivedersi e non, ma soprattutto ci sono tanti piccoli spunti secondo me di riflessione. Ho letto poi Ti prego rispondi di Catherine Stewart Immonen. Questa graphic novel è edita da Bao Publishing al prezzo di 19€ ed è un fumetto che bramavo tantissimo perché le premesse, la trama mi incuriosiva tantissimo e mi dava molto l'idea di una storia d'amore molto struggente. I protagonisti di questa storia sono Olive e Red, due persone che si amano e un giorno Olive parte per un'escursione di studio scomparendo misteriosamente, non dà più sue notizie a Red e lui pensa che lei abbia deciso di lasciarlo. Tuttavia è un fumetto che non parla esclusivamente di amore, ma che anzi passa quasi in secondo piano rispetto alle difficoltà che vivono questi due personaggi separatamente. È un fumetto che parla principalmente di difficoltà e di come due persone diverse affrontano queste difficoltà. C'è chi le affronta magari di petto, cerca di reagire, di pensare positivo, in maniera di fare qualche cosa propositiva per migliorare la situazione e chi invece si affossa sempre di più, si chiude sempre di più in se stesso e pessimista. Sono comunque reazioni umane, ognuno reagisce in maniera differente e per me è stato molto interessante questo aspetto del fumetto. È un fumetto in cui mi sono rivista per certi versi, mi ha fatto pensare molto il modo in cui soprattutto Red affronta questa situazione, il modo in cui pensa automaticamente di essere stato lasciato e non pensa all'eventualità che possa essere successo qualcosa alla compagna. Mi ha fatto veramente riflettere tanto. I disegni di questo fumetto mi sono piaciuti e non mi sono piaciuti. Nel senso che ci sono delle tavole, secondo me, bellissime all'interno di questo fumetto e i colori in particolare mi piacciono veramente tanto, abbinati proprio così a blocco, quasi senza sfumature. Mentre i personaggi li ho trovati poco espressivi. Questo fumetto mi ha ricordato moltissimo i fumetti, diciamo, dei supereroi, della Marvel per intenderci. Probabilmente perché hanno lavorato questi coniugi all'interno del mondo Marvel, quindi un po' l'influenza di quel mondo, secondo me, si riflette in questo fumetto. Una cosa che mi ha colpito molto di questo fumetto e che mi ha letteralmente spiazzato è che è come se ci fosse una storia dentro la storia. Nel senso che a un certo punto si interrompono i disegni, le tavole colorate e incominciano delle pagine invece semplicemente scritte. Sono dei pensieri che all'inizio ho fatto molta fatica a capire perché mi sembravano un po' deliranti e non stavo capendo dove volessero andare a parare questi autori. Alla fine un po' il cerchio si chiude, però mi è rimasto un po' di confusione da una parte mentre dall'altra ci sono tanti altri input, tanti altri punti di riflessione in questo fumetto. Però in generale quando sono arrivata alla fine della storia sono rimasta un po' insoddisfatta. È giunto finalmente il momento di parlarvi di un fumetto che vi sto propinando in tutte le salse, ovvero Solanin di Inyo Asano. Questo manga è composto da due volumi, o purtroppo in cartaceo è soltanto il secondo, in Italia è edito dalla Planet Manga al prezzo di 7,50€. Questo fumetto è bellissimo, è uno dei manga più belli che io abbia mai letto nella mia vita ed è un fumetto in cui mi sono rivista tantissimo. È un fumetto che parla di un gruppo di ragazzi che hanno terminato l'università e incominciano a lavorare. Con il passare del tempo però incominciano a domandarsi se quello che stanno facendo è veramente quello che vogliono fare per tutta la vita, se quello che fanno li porterà dove vogliono realmente, se è giusto accantonare le loro passioni. C'è un lungo percorso, un sacco di riflessioni sulla propria identità ed è una cosa che ho trovato molto importante in cui mi sono rivista veramente tantissimo. Mi ha stupito tanto perché raramente mi vedo così perfettamente a fuoco in un'opera, che sia un libro, un fumetto e così via. Mi ha fatto anche leggermente paura vedere impressi su carta quelli che sono le mie paure o i miei pensieri in generale. Io sto incominciando a conoscere Asano soltanto da poco tempo, ma amo tantissimo il suo modo di raccontare una storia, la filosofia che c'è dietro. E una cosa che mi ha spiazzato molto è che spesso faccio fatica a rivedermi nei manga perché la società giapponese ha dei meccanismi comunque molto diversi dalla nostra cultura occidentale e in realtà in questo fumetto non ci sono poi così tante differenze. La difficoltà di trovare un lavoro, di trovare un lavoro che piaccia, la difficoltà di emergere all'interno appunto di un luogo di lavoro, la difficoltà di coltivare la propria passione e di farne un lavoro, sono tutti discorsi che si applicano benissimo anche alla società nostra e l'ho trovato impressionante, mi ha aperto un po' il cuore letteralmente perché ci sono dei momenti secondo me particolarmente emotivi che per una persona abbastanza sentimentale come me, sì, sono abbastanza toccanti e io in particolare mi sono rivista tanto nel personaggio femminile protagonista. Vi faccio vedere giusto qualche tavola iniziale perché essendo il secondo volume non vorrei rischiare appunto di farvi spoiler. I disegni di Asano per me sono bellissimi perché si avvicinano molto secondo me alla realtà. I disegni non sono per forza belli, i personaggi non sono per forza carini, coccolosi come capita in tanti shoujo, ma sono abbastanza realistici. Incomincia ad affezionarti ai personaggi non perché sono belli visivamente ma perché ti rispecchiano per carattere, per modo di pensare, per quello che fanno ed è una cosa che ho apprezzato veramente tanto. L'unica cosa che mi è piaciuta leggermente meno di questo manga è che c'è una forte connessione con la musica. Penso che però si possa interpretare come la passione portante di una persona e nel mio caso potrebbe benissimo essere fare video su YouTube. Io non sono una grandissima appassionata di musica, quindi quando c'erano questi momenti in cui si parlava di musica, in cui suonavano, magari mi sentivo meno in contatto con i personaggi rispetto a tutti gli altri momenti della storia, però è un fatto, vi ripeto, mio personale. Penso si possa comunque applicare a qualsiasi tipo di passione. Rimane un manga veramente bellissimo, soprattutto se avete la mia età assolutamente consigliato. Altro romanzo letto recentemente è Le ragazze di Emma Klein. Questo romanzo è edito da Einaudi al prezzo di 18 euro ed è il libro che avete scelto per la recensione scelta da voi. Quindi qua sul canale trovate un'intera video recensione, tutta dedicata a questo romanzo. La trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Molto brevemente, questo libro parla di Evie, una ragazza di 14 anni che ha diversi problemi familiari, si distacca dalla famiglia, dagli amici e conosce Suzanne, una ragazza molto particolare che fa parte di una comunità, una comunità composta principalmente da ragazze che ruota attorno a una sorta di guru, ovvero Russell. È un libro che parla molto di adolescenza, sessualità, la scoperta di se stessi, il rapporto con se stessi e gli altri e appunto si va un po' a indagare all'interno di questa comunità in cui le ragazze sono spesso sotto stupefacenti, a volte vengono violentate fisicamente, ma anche psicologicamente, quindi ci sono tante dinamiche molto interessanti. Io personalmente sono rimasta molto intrigata da questo romanzo, peccato che verso la fine il mio interesse sia un tantino scemato. Ho letto poi Ricomincia da qui di Stetirasso, un fumetto edito da Baupublishing nella collana Le Città Viste dall'Alto e a un prezzo di copertina di 16€. Questo è il primo romanzo grafico di quest'autore che ho scoperto avere la mia stessa età e devo dire che mi ha stupita veramente tanto perché all'inizio avevo una certa idea del fumetto e alla fine mi sono ricreduta tanto. I protagonisti della storia sono Samuele e Franz, due amici di lunghissima data che vivono le loro vite un po' passivamente perché hanno un po' dimenticato o abbandonato quelle che erano le loro passioni. E un giorno Franz convince Samuele a partecipare per un'ultima volta al campo scout della loro infanzia, luogo in cui riscopriranno un pochettino se stessi e l'ho trovata un'esperienza veramente molto bella perché, diciamocelo, ognuno di noi ha un sogno nel cassetto e pian piano crescendo tendiamo a diventare sempre più realisti, sempre più concreti ed abbandonare quei sogni che ci caratterizzavano da bambini, per l'appunto. È un fumetto che falleva sul cambiamento che vivono questi personaggi. I disegni mi sono piaciuti veramente tanto. Hanno dei colori molto freddi però, secondo me, si addicono bene al tipo di storia che è un po' melanconica. Riflettono anche lo stato d'animo dei personaggi che vivono un po' di rimpianti, di sogni mancati. Samuele, infatti, disegna mentre Franz suona. Anche l'ambientazione mi è piaciuta tanto, ovvero il campo scout, perché è una di quelle esperienze che non ho mai potuto vivere in prima persona. Però mi sarebbe piaciuto veramente tanto partecipare a un campeggio di questo genere. È una graphic novel che mi ha sorpresa, devo dire che non avevo chissà quali aspettative riguardo la storia e alla fine sono rimasta veramente colpita. Ultima lettura e ultimo fumetto Non sei mica al mondo di Raphael Geffre. Questo fumetto è di Togato Unmè nella collana Tipi Tondi e ha un prezzo di copertina di 16,90€. Questo è un fumetto che mi ha colpita tantissimo. Innanzitutto per i disegni. I disegni sono molto particolari. Appena ho aperto questo fumetto mi è venuto in mente Tim Burton. Ricordano secondo me tanto il suo stile, ma in generale la plasticità dei personaggi ricorda molto un film d'animazione. È una cosa a cui ripensavo continuamente. Veramente molto particolari, secondo me azzeccatissimi con quella che è la storia. Il protagonista infatti è un bambino con diversi problemi innanzitutto familiari perché la madre non gli presta abbastanza attenzione e inoltre è un bambino che non riesce ad integrarsi soprattutto a scuola, non riesce ad imparare e a farsi degli amici. Viene quindi mandato da una scuola all'altra finché non si imbatte in un insegnante abbastanza testarda che si impunta di voler fare apprendere qualche cosa a questo bambino. È una storia tutt'altro che semplice perché parla di bullismo, difficoltà di apprendimento, irrascibilità in particolare nei bambini, ma anche delle criticità spesso degli insegnanti e del sistema scolastico. E mi è piaciuto molto il fatto che l'autore ci abbia messo proprio davanti gli occhi questi problemi senza cercare di addolcirli in alcun modo. Nonostante il suo caratteraccio, bene rimane pur sempre un bambino con tanta voglia di giocare e di rapportarsi con gli altri, tuttavia nessuno gli ha mai insegnato il modo, diciamo, corretto di relazionarsi agli altri e quindi pensa che la violenza risolva tutto. E quindi per certi versi è come se si nascondesse dietro a una maschera, no? Quello del bambino forte che risolve tutti i problemi a pugni, che nessuno gli può dire niente, quando in fondo in fondo vorrebbe semplicemente che qualcuno gli volesse bene, che lo capisse. Per me è stato molto interessante e bello vedere il percorso di crescita e di formazione di questo bambino, un po' perché mi sono rivista per certi aspetti e un po' perché finisce con l'affezionarti, secondo me. Nonostante sia un po' un orso, un po' appunto così irrascibile, rimane un bambino comunque tenero che sa voler bene alle persone, sa affezionarsi e non si può non entrare in empatia con questo personaggio, secondo me. Nonostante sia un fumetto per ragazzi, secondo me può essere apprezzato maggiormente da una persona cresciuta che ha vissuto già quelle esperienze quando era bambino e quindi si può rivedere sia in bene sia nella maestra. Queste erano quindi le mie ultime letture. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi dei libri o fumetti che ho citato, se vi incuriosiscono, insomma, fatevi sapere la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!